Siamo iniziati i lavori nell'area di via Battisti, tutto pronto dunque per andare a realizzare la sesta porta, il lavoro di smantellamento durerà fino al 20 di marzo, siete nei tempi col cronoprogramma? Direi di sì, tutto sommato una scommessa vinta perché partiamo nei tempi e parte un grande investimento per la città, cambierà volto un quartiere al quale siamo abituati, fondamentale per la città, ma che può essere molto, molto migliorato, quindi è un lavoro di straordinaria importanza da tutti i punti di vista e anche il segno è una città che guarda avanti, che ha progetti e che compone bene anche le controversie perché ne siamo usciti credo bene anche sulla vicenda Leberdia e ne usciremo bene anche in via Pisano perché credo che troveremo soluzioni nel rispetto dei diritti dei residenti come è doveroso fare.